Buonasera, buon pomeriggio. Buonasera, ben trovati amici di Bridge. Credo di essere regolarmente collegato sulla pagina di Bridge of Light. Se magari mi date conferma che mi sentite, mi vedete bene come facciamo di consueto per ogni diretta, io direi di iniziare. Grazie Mirella Greco, salve Carmine Russo, Nicoletta Fagioli, grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 comincio con un articolo che io ho scritto qualche settimana fa e che è uscito sulla rivista online ex parte bus che si intitola riconoscersi ricomincio da shakespeare inizio con questo articolo e poi da qui diciamo entriamo nel vivo della nel vivo della diretta ci sono sensazioni che non hanno nome emozioni che non si possono spiegare dove nemmeno il paroliere più bravo e capace riesce a dare la giusta adeguata e congua nomenclatura questi stati d'animo appartengono prettamente al mondo spirituale e soltanto chi possiede una sensibilità acquita recettizia e di profonda consapevolezza interiore è in grado di saggiarne in vita l'estesa semplice complessità universale non è una questione di età anagrafica ma di maturità spirituale acquisita nel corso della propria esperienza umana a un livello superiore e maggiormente sottile il genere umano da secoli lo chiama amore già l'amore quel filo rosso del destino che inanella tutte quante le stagioni della vita se si è fortunati oppure bacia di realtà soltanto alcune epoche del percorso esistenziale di un essere umano che crede di affacciarsi alla vita per la prima volta dio mette a servizio dell'uomo la più grande opportunità che egli possa cogliere la vita in questo cerchio temporale l'uomo impara a camminare e nel contempo si rende conto di doversi porre delle domande inerenti la sua reale provenienza spirituale il suo senso sostanziale nel mondo la sua effettiva direzione in questo frangente se in grado di riconoscerlo di capita l'amore o meglio l'autenticità dell'amore quando ciò accade la sua origine spirituale per diretta applicazione di tutte le leggi universali che la governano si allinea alla sua componente umana e da quel momento in poi diventa un essere speciale due anime o meglio due spiriti che per mezzo delle loro anime si riconoscono nel mondo della prova come lo è il nostro pianeta terra attraverso questa fusione spirituale possono generarsi altre nuove vite che per mezzo dei due spiriti riconosciutisi decidono di venire a nuova luce e intraprendere un nuovo personale cammino finalizzato a una innovativa e ulteriore evoluzione spirituale eppure le regole del mondo spirituale che permeano silenziosamente quelle della natura non coincidono sempre perfettamente con quelle del genere umano le stagioni della vita non sono sempre così scandite e ben precise come le aveva magistralmente dipinte hermanes non sempre l'imprevedibilità come la chiamano oggi è dietro l'angolo ed è pronto a mescolare tutte quante le carte da gioco sul tavolo di quella stessa vita che appariva già perfettamente delineata non esistono vincoli dogmi catene di regole che possano ovviare all'irruenza di un amore che possa travolgere l'esistenza di qualcuno con cui abbia stipulato un precedente ulteriore patto spirituale nella dimensione dello spirito se esiste dentro di te esiste già nell'universo che lo ha riconosciuto decidendo di restituirlo nel tempo terreno questo ti sussurra il tuo spirito attraverso il cuore umano che possiedi tante le variabili le incognite i sensi che si accendono sotto quel profondo e oscuro alone di mistero che avvolge le due anime eppure ciò nonostante può accadere che il nuovo amore subentrato al precedente non si compia per un unico semplice motivo il non riconoscersi reciprocamente ma soltanto a metà una metà che vacilla che si ritrova claudicante e che dopo essersi nuovamente bruciata al fuoco del desiderio della passione si ritira amareggiata e delusa nel proprio algo esistenziale cercando di ricostruire se stessa e porre fine alla devastazione emozionale che ha subito per quell'amore monco all'origine ma di cui è regnana e inconsapevole l'una riconosce l'altro l'altro non riconosce l'una ciò nonostante la metà consapevole che ha riconosciuto il nuovo amore ritorna alla propria origine ricorda da dove è partita cosa ha fatto in quella stessa vita ripercorrendo e riguardando il cammino già svolto lì in quel preciso istante accade qualcosa che le radici spirituali propongono riconosce per la prima volta se stessa nei ricordi continuerà ad amare riconoscendo nel presente la sua nuova e scolpita identità che porterà in avanti sino alla fine dei suoi giorni non avrà rimorsi né rimpianti perché quello che ha vissuto sarà custodito nel grengo dell'universo per sempre essendo di natura autentica e ripetibile custodirà per ogni successivo istante della sua vita quel nuovo incompiuto amore serbando nella verità e la dolorosa la dolorosa sofferenza che gli ha causato l'amore si amplifica l'amore si estende e avanza l'amore assorbe l'amore assorbe l'amore stesso e con esso si fonde in una nuova energia rinnovata che non ha nulla a che vedere con le leggi materialiste del mondo né con calcoli numerici o statistiche non esiste sventura peccato vergogna che l'amore non superi con la propria vigorosa intensità e che tu sia uomo donna padre madre figlio figlia marito moglie sorella fratello che tu sia qualunque cosa credi erroneamente di essere l'amore che si genera nel tuo animo non si spegne alla sua mediocre volontà ma resta sia autentico nell'eternità del tempo e dello spazio perché il tuo cuore quello che ti ha fatto soffrire e gioire contemporaneamente gli ha attribuito il primo dono la vita nello spirito e questo william shakespeare fra il 500 e il 600 lo aveva ben capito ecco perché ricomincio da shakespeare questo era l'articolo che avevo intenzione insomma di leggervi e che fa da un po da base un po da canovaccio a quella che è la diretta di stasera l'amore l'amore che può sembrare un tema forse semplice in realtà è un tema molto complesso perché il nostro mondo si compone di tanti innumerevoli amori ci sono tanti amori per ogni persona che vive nel nostro nel nostro mondo e ognuno ogni persona ogni spirito incarnato è un potenziale attributo di potenza e quindi soltanto il proprio spirito sa cosa sia per se stesso l'autenticità dell'amore esiste l'amore universale avete visto no la diretta di prima con con selli con gaetano con jerome hanno parlato di energia universale varie di di canalizzazioni di effusione spirituale l'amore universale è in realtà il primo vero amore è la matrice divina da dove tutto si effonde e tutto si dipana e da cui proveniamo anche noi subito dopo l'amore filiale se volessimo creare una scala gerarchica troveremo l'amore filiare l'amore per i nostri genitori così come l'amore per i nostri figli non c'è nulla di più autentico ed incondizionato di un rapporto che esiste tra il genitore e il figlio al di là di quelle che possono essere diciamo le dinamiche familiari o le varie difficoltà io questa sera vi parlerò dell'autenticità dei sentimenti senza tenere in considerazione ma sapendo che ci sia comunque questa questa eventualità l'imprevedibilità del della vita no che comporta che comporta comunque diciamo delle difficoltà anche nell'amarsi anche nei rapporti tra papà e figlio tra genitori e figli in generale poi poi esiste l'amore amicale l'amore che ecco l'essere umano crescendo trova incontro a nuove persone quante volte nelle nostre dirette abbiamo detto che ogni incarnazione singola è allineata è corrispondente a 500 almeno 500 incarnazioni di altre persone quindi la cosiddetta incarnazione collettiva l'amore amicale è fondamentale spesso quando sono carente le altre forme di amore l'amore relazionale l'amore genitoriale per tante motivazioni che ben conosciamo chi ha un buon ha già un buon bagaglio alle spalle di vita in questo mondo sa bene che ci sono le perdite nella vita di ognuno di noi e l'amore amicale probabilmente in determinati momenti della propria esistenza è certamente un un modo è un incontro tra anime che si riconoscono anch'esse e si scambiano amore particolare amore che sostiene amore che collabora amore che ti fa riprendere quella speranza che magari per determinate motivazioni o determinati eventi era purtroppo smarrita ma non perduta poi esiste un'altra forma di amore un amore che è difficile imparare a sentire e a nutrire ed è l'amore verso se stessi l'amore per se stessi è un amore che può essere confuso perché non 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 include in realtà un atto egoistico ma include una generosità verso se stessi un perdonarsi per ciò che si è un perdonarsi per ciò che si è fatto per ciò che si è commesso e se tu non impari ad amare te stesso non puoi riuscire ad amare gli altri io da ragazzo non avevo ben inteso il senso di questa particolare forma d'amore con il passaggio del tempo con lo scorrere degli anni quindi delle varie esperienze che hanno costellato la mia il mio percorso personale esistenziale ho imparato che l'amore per se stessi probabilmente è la base di tutto perché se tu non hai amore per te stesso non hai un equilibrio dentro di te e se non hai un equilibrio dentro di te non puoi fondere nemmeno amore verso le persone che ritieni di amare autenticamente poi veniamo ad un amore che diciamo in un certo qual modo è conseguenza del testo che vi ho appena letto ed è prodromico a tutto quello che vi dirò stasera ho voluto fare questa schematizzazione diciamo sintetica delle varie forme d'amore ma ce ne sono tantissime però io ritengo di ecco di aver fatto un adeguata sintesi di quelli che sono gli amori più importanti nella nella vita di una persona c'è l'amore relazionale quest'amore che abbraccia tutti noi che interessa tutti noi non c'è persona al mondo che in corso suo non desideri amare non desideri innamorarsi vi parlo dell'amore romantico vi parlo magari poi dopo lo svisceriamo meglio dell'amor cortese concetti particolari che hanno accompagnato anche le epoche della nostra storia e il primo richiamo che vi voglio fare voi avete visto l'articolo portava come sottotitolo e così per questo motivo ricomincio da shakespeare proprio da alcune frasi di shakespeare io che è un autore che io amo e a cui mi sono accostato ultimamente è un autore che conosceva benissimo le varie forme dell'amore un autore che ha inteso l'amore sotto varie sfaccettature sotto vari angoli prospettici e attraverso le sue commedie attraverso le sue tragedie attraverso anche un tocco di ironia o comunque anche di cercare di semplificare quelli che sono i concetti della profondità abissale dell'amore ha scritto veramente delle opere straordinarie c'è uno scritto di shakespeare che recita diciamo presso a poco così ve lo leggo ama ama follemente ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente vedete in queste pochissime frasi shakespeare è come se ci desse l'autorizzazione almeno diciamo poetica romantica ad amare quando questo amore si presenta nella nostra vita a non dire no a questo bussare alle porte del nostro dogmatismo interiore purtroppo noi siamo presi da una vita quotidiana molto difficile e siamo in un contesto sociale dove la profondità dell'amore probabilmente adesso è sostituita dalla leggerezza e dalla superficialità di amori virtuali che poco hanno a vedere con l'autenticità dei sentimenti ci sono romanzi straordinari io vi potrei citare dei più grandi autori europei nazionali internazionali contemporanei e non che hanno parlato dell'amore che hanno che si sono bruciati dell'amore e hanno reso autentico questo sentimento e l'hanno tramandato a noi ai posteri e lo tramanderanno ancora per il valore l'alto valore l'alto spessore con cui hanno dipinto magistralmente diciamo questo 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 sentimento ecco da questo punto in poi da questo ama il tuo peccato voi sapete bene diciamo che il concetto di peccato ci viene soprattutto dalla da chi dallo studio della religione cattolica e il peccato è diciamo per i religiosi per per la religione cattolica in qualcosa assolutamente di negativo quindi di causa di abunizione di 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 bacchettata sulle mani in un certo qual modo e c'è devo dire la verità un un aggancio con quello che shakespeare diceva 500 anni fa in due film che a me sono piaciuti moltissimi che vi invito a vedere anche più di una volta perché i testi che sono stati portati in scena rappresentati da questa straordinaria autrice regista cantante artista a 360 gradi che io amo tantissimo sono due film degli anni 90 e proprio il peccato inteso in questo senso diciamo un po per estensione da quello che poteva a cui poteva accennare shakespeare è un po in quello che c'è in questo film che è il principe delle maree a firma di barbara stresan è diciamo un ponte un bridge che voglio sottoporvi in questo film una storia bellissima è un film degli anni 90 il titolo originale è the prince of tide in questo film c'è la storia di questa psicologa interpretata magistralmente da barbara stresan che per varie vicissitudini si innamora del fratello di una sua paziente il paziente è interpretato da nick nolto un attore molto in voga negli anni 90 e 80 lui sposato anche lei sposata lui padre di tre bambine lei madre di un ragazzo lui ha un matrimonio felice forse un po stanco un po assopito un po spento lei invece ha un matrimonio in cui non si rivede più questi due iniziano questa relazione e c'è un momento in cui l'interprete maschile quindi nick nolto dice a barbara stresan come è bello l'adulterio e barbara stresan nell'interpretare questo psicologo questa psicologa che si chiamava lowestine gli risponde ecco perché l'hanno reso un peccato molto probabilmente shakespeare 500 anni prima si riferiva anche a questo ovviamente quello che io vi dico non è un'incitazione all'adulterio non è assolutamente un senso di provocazione a quelli che sono poi rapporti stabili e che hanno diciamo una autenticità è un costrutto reale però è certamente un invito a vivere autenticamente l'amore che può bussare alla porta di ognuno di noi in determinati momenti della nostra vita è un mettersi in gioco ed è un mettersi in gioco soprattutto quando si ha amore per se stessi e questo accade soprattutto quando la posta è alta che cosa si intende per la posta è alta si intende apprezzare e riconoscere il valore che ognuno ha di sé se tu sai chi sei se tu sai cosa serve il tuo cuore se tu sai che cosa vuoi da quell'amore o da quell'incontro la posta è alta perché quella posta sei tu stesso o tu stessa ovviamente e quindi diciamo in quel momento tu devi avere coraggio l'amore comporta coraggio comporta il non dormire la notte comporta delle scelte a volte possono sembrare delle scelte drastiche o quasi irreversibili ti puoi sentir dire non ti riconosco più non sei più la stessa persona di una volta questo è un complimento non è un ammonimento perché quando una persona ti dice non sei più la stessa persona di una volta e tu ti senti bene e sei certamente migliorato vuol dire che quella persona non riconosce l'evoluzione che tu hai avuto anche grazie a quell'amore sempre in questo film al termine non ve lo voglio spoilare ma molti di voi sicuramente l'avranno visto c'è un passo quasi alla fine perché accade che poi lui decide di tornare dalla moglie dalle figlie questa decisione fa emergere in realtà una doppia sensazione una doppia un doppio binario di sentimenti nel cuore di quest'uomo perché c'è un lato che ama la moglie c'è l'altro lato che ama l'amante la psicologa no quindi l'awistin che è interpretata da barbara strese e i due sono a cena in una delle scene finali molto bella perciò invito a vederlo questo film in cui lei gli chiede direttamente dici tu torni da lei perché la ami di più lui da uomo consapevole e innamorato di entrambe queste donne le dice io non torno da lei perché l'amo di più ma perché la amo da prima tenete presente che questi testi che possono sembrare molto romantici in realtà innanzitutto il romanticismo è una manna dal cielo nella letteratura e ma soprattutto possono avvicinarsi molto a quella che è la realtà che tutti noi viviamo tutti i giorni questo film ha quasi 30 anni 30 anni sono molto vicini ma l'amore è amore da sempre da quando l'uomo esiste qui sul nostro pianeta terra da quando è giunto sul su questo piano fisico che più volte vi ho detto è il mondo della prova quindi certamente sono testi che inevitabilmente colpiscono alcuni di noi e di questo io ne sono assolutamente certo questo film è di spessore ed è possibile paragonarlo anche a film come i ponti di Madison County che è molto simile nel nel costrutto della storia con un finale anch'esso simile ma ci si arriva in modo diverso questo per dirvi che ogni persona certamente ama in un modo autentico personale soggettivo ma l'amore di carattere generale e poi dipende dal proprio cuore dalla propria personalità e soprattutto dalla propria identità che tipo di amore noi riusciamo a dare all'altro un altro film che è legato in un certo qual modo alla diretta di stasera e che io voglio portarvi a vostra conoscenza è sempre di Barbara Strasan ed è un film degli anni 90 che si intitola l'amore a due facce lei lo interpreta magistralmente insieme a Jeff Bridge lei una professoressa un'accademico universitaria anche lui lui deluso dall'amore in tutte le forme decide di trovare una persona che in realtà abbia solo un amore un amore spirituale ma non un amore passionale quindi anche diciamo con attività sessuale eccetera incontra Barbara Strasan Barbara Strasan accetta questo patto e i due si sposano ci sono due punti di questo film che sono particolari lei si innamora del marito quindi inevitabilmente questo amore comporta anche la volontà il desiderio la voglia di unirsi carnalmente a quello che poi è il marito il marito per le sue teorie per i suoi dogmi quasi matematici statistici decide invece di non voler congiungersi a lei prima che arrivi diciamo la scena che vi voglio raccontare adesso ce n'è un'altra molto particolare dove lei spiega la differenza tra l'amore romantico e l'amor cortese l'amor cortese che nasce intorno al 1100 era un amore molto spirituale un amore divino quasi no e in questo amore diciamo il cavaliere della corte si innamora follemente di una donna che fa parte della corte ma che comunque è sposata e coniugata e allora loro non immaginano se stessi nello stesso letto non immaginano se stessi congiunti carnalmente ma elevano questo amore e lo elevano in modo spirituale Barbara Strasan in questo convegno in questa lezione in realtà universitaria che tira ai suoi ai suoi studenti dice questo era l'amor cortese poi nei secoli successivi è arrivato l'amore romantico e l'amore romantico che cosa comporta comporta il matrimonio allora lei ai ragazzi spiega no che cosa comporta l'amore romantico cioè la passione il desiderio la sessualità che può essere diciamo a volte devastante a volte diciamo ci si può bruciare per amore quando è un amore sano autentico e reale e lei a un certo punto pone una donna si pone e pone una domanda agli altri dicendo ai ragazzi ragazzi ma secondo voi se perché le persone tutte le persone del mondo sanno che l'amore può avere una scadenza e che può avere un affetto un effetto devastante su di loro decidono poi di innamorarsi e allora arrivano le più svariate risposte dai ragazzi e cioè alcuni dicono per per la riproduzione della specie altri invece dicono perché può essere un rinforzo psicologico barbara stresa in quel caso una professoressa risponde dice queste per me sono domande molto intellettuali e lei a un certo punto dice adesso vi dico che cosa penso io dell'amore romantico io credo che l'amore che è una forza in cui diciamo si sprigiona l'energia straordinaria che ci fa vivere davvero e ci fa vedere la vita in un modo assolutamente autentico con forza con speranza con coraggio chi è innamorato chi vive l'innamoramento sa sa di che cosa sto parlando e sa che quell'innamoramento lo rinvigorisce chiede diciamo perché io alla fine voglio continuare questo innamoramento anche se sto che magari potrà finire anche se magari mi potrà lasciare o che io lascerò o che finirà definitivamente e lei dà una risposta molto esaustiva e chiara e dice perché l'amore finché dura cazzo ragazzi non c'è meglio di non c'è nient'altro al mondo più bello di questo che si può vivere come amore da una risposta devo dire sintetica semplice molto incisiva che però rende l'idea ai ragazzi infatti poi c'è una standing ovation dei ragazzi che applaudono applaudono la loro insegnante e quindi diciamo accolgono questa sua tesi bene e allora dopo aver fatto questa questo distinguo di questa forma d'amore no tra l'amor cortese l'amore romantico c'è in realtà un altro autore che io vi voglio vi voglio menzionare e discutere un attimo su questa su questa frase che che diciamo che lui che lui dice ed è praticamente questa lui è jung lo conosciamo tutti psico analista grande autore saggista eccetera e a un certo punto lui dice il privilegio dell'amore è diventare se stessi vedete io ho scelto questa frase perché diciamo quasi in un modo come dire circolare si innesta con tutto quello che è il nostro il nostro discorso l'amore il privilegio diventare se stessi definito da jung come il più grande privilegio quello cioè di capire chi si è quante volte ce lo siamo detti nelle nostre dirette e quante volte abbiamo l'abbiamo diciamo sviscerato in moltissimi in moltissimi nostri incontri diventare se stessi comporta un lavoro proprio personale comporta una come dire un un viaggio verso se stessi gli alchimisti lo chiamano vitriol molti lo chiamano viaggi verso le tenebre interiori ma è dentro queste tenebre che probabilmente poi la bellezza di questo amore che ci portiamo dentro come una scintilla divina emerge da queste tenebre e quindi irradia poi chi ci ha di fronte vedete l'amore relazionale è un amore che è difficile a volte da contenere difficile a volte da gestire ti può capitare imprevedibilmente in qualsiasi momento della tua vita e questo può accadere anche e soprattutto in momenti in cui le persone dicono questo amore mi è capitato in un'epoca sbagliata dove magari un incontro magari tra un uomo più anziano viceversa o una donna un uomo più giovane e quindi si sentono quasi inadeguati no a vivere questa storia invece via interpretativa e essendo spiritualista più volte vi ho evidenziato diciamo anche questa mia questo mio trasporto questa mia opinione invece ritengo che quando l'amore sorge ed è un amore autentico qualunque sia l'età in cui accada qualunque siano le due persone che facciano parte di questa opera perché l'amore poi diventa un'opera allora devono avere entrambi il coraggio di viverle di viverle queste emozioni di viverle queste sensazioni perché sarebbe quasi un aborto emotivo non vivere una relazione che può generare soltanto un amore autentico è vero vedete io oggi ho chiesto a una persona una persona molto importante del del nostro territorio campano una un musicista un commediografo un una vera penna della 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 musica italiana lui si chiama Bruno Lanza è davvero un autore straordinario che ho avuto l'onore di conoscere e ha scritto una poesia io non so per chi l'abbia scritta ma so certamente che questa poesia quando l'ha scritta la scritta ad una persona speciale ed è impossibile non riconoscersi in questa poesia io adesso ve la recito la poesia si intitola respirami respirami come un vento d'estate come l'ultima aria per vivere portami alla tua bocca e fai sciogliere nel silenzio le parole che non puoi dire chiamami come se fossi lontano e guardami come un ordine comandami da amarti per sempre il sempre di un attimo o di mille anni il sempre di adesso di questo momento attraversami come una spada è di te che che voglio morire sono i tuoi occhi che voglio vedere prima di chiudere i miei vedete queste frasi così amalgamate magistralmente dall'autore Bruno Lanza sono assolutamente frasi che partono da una dimensione spirituale straordinaria io ho conosciuto Bruno per pochi minuti però empaticamente posso dirvi che è una persona certamente che ha amato tanto nella sua vita e che tuttora probabilmente ama le frasi che scolpite in questa lirica che vi ripeto si chiama respirami che potete che potete trovare assolutamente anche anche in rete sono parole dettate da un uomo da un'anima che ha conosciuto sia l'amor cortese e che ha conosciuto sia l'amore passionale l'amore romantico vi dico che ha conosciuto l'amor cortese perché sotto gli impulsi emozionali vibrazionali delle alte sensazioni che si possono percepire attraverso la lettura di uno scritto del genere e quindi di stampo romantico passionale con tutti i crismi che comporta il romanticismo in realtà c'è un salto c'è una come dire come se ci fosse un velo che permea questo romanticismo e lo eleva l'amor cortese è talmente forte l'amore che viene prodotto in questa lirica da un'anima verso l'altra che in un certo qual modo diventa un tutt'uno con l'elemento essenziale del divino ecco perché richiamando magari il film di cui vi ho parlato prima l'amore a due facce c'è questo distingo tra l'amor cortese e l'amore romantico ma in realtà le due non sono altro che la forma di quello stesso amore che può colpire diciamo che si può generare in ognuno di noi attraverso l'incontro con gli altri poi vorrevo diciamo sottoporvi un approfondimento sul testo che io vi ho letto all'inizio questo articolo che è uscito qualche mio articolo di qualche settimana fa di qualche settimana fa di maggio che è uscito su ex partibus questa rivista che potete trovare molto facilmente c'è una una frase che dice se esiste dentro di te esiste già nell'universo che lo ha riconosciuto decidendo di restituirtelo nel tempo terreno vedete questa frase che può sembrare può sembrare un codice è in realtà un codice emotivo un codice un codice sentimentale ma che non è difficile decodificare con determinati chiavi di lettura vedete spesso a volte ci si può innamorare di persone che non riconoscono quell'amore che tu provi per loro e non è un amore incompiuto non è il cosiddetto il mero amore non corrisposto è un amore che comunque è nato che comunque è sorto ma che provoca dolore perché il riconoscimento è avvenuto solo da una parte delle due persone interessate e non nell'altra quando capita questo può ingenerarsi nella persona che ha riconosciuto quell'amore nella persona che si è specchiata in quegli occhi due tre quattro volte un anno non ha importanza il tempo ci si può innamorare in un minuto ci si può innamorare in un pomeriggio ci si può innamorare in un giorno ci si può innamorare in un mese ci si può innamorare in un anno ma quel giorno quel mese quell'anno quel minuto quel pomeriggio te lo porterai dentro per tutta la vita perché è stato il tuo sentire che ha dato autenticità al sentimento che tu hai vissuto e non ha importanza se eri in riva al mare se eri in montagna se eri nel traffico cittadino se eri in macchina se eri al lavoro se eri in strada se eri a telefono non è quello non è il posto la location non è il contesto è ciò che si è generato attraverso il rispiecchiare del tuo essere negli occhi dell'altro negli occhi dell'altra e anche se questa o questo non ti ha riconosciuto per quanto possa essere sacrificante per quanto possa essere sofferente una cosa del genere perché guardate io vi dico questo perché anche attraverso la rubrica che ho qui su bridge e anche attraverso il lavoro di giornalista pubblicista ma anche di avvocato io mi trovo di fronte a persone a storie che a volte nascono proprio da amori monchi ma in realtà non sono amori monchi sono amori che sono perfettamente integri anche se non corrisposti anche se è arrivato fino ad un certo punto di corrisponzione ma quell'amore fa parte già dell'universo ecco perché quando io scrivo se esiste dentro di te esiste già nell'universo che lo ha riconosciuto decidendo di restituirtelo nel tempo terreno quell'amore che tu hai vissuto lo hai stipulato quante volte ce lo siamo detti nelle nostre dirette tutto ciò che riguarda l'amore tutto ciò che riguarda l'amore filiale l'incarnazione collettiva ecco così ci riportiamo ci riportiamo a quelle che a quello che è lo spiritualismo lo spiritismo questi patti dell'amore questi patti del bene avvengono solo ed esclusivamente nella dimensione spirituale quello che accade qui è un programma spirituale che noi dobbiamo cercare di portare a termine e non è detto che quel programma includa un amore che possa durare tutta la vita non è sempre così forse è raro che sia così ed è per questo che i grandi autori del passato e alcuni autori contemporanei e io stesso sostengo questo che se hai un minuto se hai un pomeriggio se hai una giornata un mese un attimo vivilo quell'amore e vi dico che anche dal punto di vista psicologico chi reputa fattibile e soprattutto diciamo sostenibile un sentimento un'emozione del genere è anche crepe voi conoscete crepe che psicoterapeuta molto importante una persona straordinaria io personalmente non l'ho ancora conosciuto ma nelle sue conferenze nei suoi convegni quando trasmette la conoscenza del proprio lavoro lui è un psicoterapeuta quindi conosce l'animo e conosce la psiche delle persone che si interfacciano a lui lui porta una marea di esempi in cui sostiene e in cui invoglia a vivere l'amore quando è autentico vedete le persone a volte confondono perché presi in un determinato momento storico della propria vita confondono la mera sessualità la mera attrazione con quello che invece è un amore e ci sono momenti della vita di un uomo di una donna in cui vivono solamente storie micro relazioni che sono sostanzialmente diciamo ad impronta sessuale a diciamo a momenti che sono voglio dire abbastanza effimeri che magari ecco arricchiscono solamente la materia ma non arricchiscono lo spirito io con questo che cosa vi voglio dire che queste mattanze tra virgolette che molte persone si trovano a vivere nel corso della propria vita non devono essere definite come peccato così come avevo spiegato prima io il peccato sono comunque dei momenti di formazione delle persone purché non diventi vizio purché non diventi una prigione purché non diventi una dipendenza perché tutto ciò che è usato in un modo non adeguato e congruo e quindi in un modo assolutamente eccessivo e non è quello non fa bene a nessuno di noi anche invece quando vi dicevo che esistono queste tra virgolette fatemi passare il termine mattanze fisiche anche queste comportano una evoluzione della persona e a un certo punto si arriva ad un come dire ad un esautoramento si arriva ad un punto in cui la persona dice basta io non voglio più questo non voglio più questa materialità voglio qualcosa di autentico e quando arriveranno tante proposte che magari prima non si perdeva il tempo a non coglierle si comincerà a dire di no e ogni no che si dirà a quelle mere proposte fisiche materialiste sarà un tassello della costruzione della nuova persona della nuova identità di quella identità che jung definisce come un vero privilegio della persona capire effettivamente chi si è io credo che ogni esperienza vedete quante volte ci siamo detti nelle nostre dirette che nella parola spiritualismo non esiste la parola fallimento nel vocabolario nel vocabolario spiritistico e spiritualismo non esiste la parola fallimento ogni cosa esperienza e ogni esperienza che la persona vive senza farsi del male soprattutto senza arricchere male all'altro è certamente un'esperienza che lo forma che lo cresce che lo fa divenire molto più consapevole se noi guardiamo alcune storie che fanno parte dei grandi romanzi o comunque storie anche dei grandi personaggi che hanno costellato il diciamo l'iter storico delle varie epoche che si sono susseguite fin dagli albori fin dal diciamo dai primissimi scendi della civiltà sul nostro pianeta terra vi renderete conto che a volte i più grandi amori le più grandi passioni magari sono sono state vissute anche al di fuori di quello che poteva essere un regime standardizzato che era quello matrimoniale ma io con questo non voglio dirvi ve lo ripeto non voglio essere un provocatore o un qualcuno che incida l'adulterio non è quello però le persone persone che vivono amori del genere non devono essere additate magari magari qualcuno di voi mi direbbe ma io non voglio un uomo così accanto non voglio una donna così accanto poi si prendono le dovute decisioni ma quella persona sappiate bene che ognuno di noi chiede costantemente perdono a se stesso perché se vuole perdonare deve anche essere perdonato e viceversa quindi è sempre qualcosa che è voluta e devoluta all'equilibrio personale perciò vi dico che l'amore relazionale di tutte le forme d'amore che io vi ho elencato e cioè l'amore universale l'amore filiale l'amore amicale l'amore per se stessi e tutte le altre forme d'amore l'amore relazionale è quello più difficile è quello più complesso perché comporta la fusione l'unione di due spiriti incarnati che quando si riconoscono generano un'energia talmente forte che inevitabilmente si riverbera nell'ambiente circostante e tutto gira in un modo diverso questo può accadere in qualsiasi contesto della nostra vita in qualsiasi contesto storico della nostra vita e fa parte diciamo di quello che è il nostro percorso esistenziale voi vedete io ve lo dico molto sorridendo perché sicuramente da casa starete pensando l'impossibile non riesco ancora a leggere i commenti perché devo dire la verità ce ne sono tanti e poi dopo magari facciamo prima di prima di salutarci faremo faremo un discorso spero quello che quello che ci devo a dire è prendete questi spunti questi spunti che io vi ho dato stasera in questa ora di diretta insomma ed è diciamo volutamente un'ora un po più leggera rispetto ai grandi argomenti che si sono trattati in questa tre giorni del quarto convegno di bridge of light e volutamente ho cercato di darvi queste pillole questi elementi perché credo che sia un modo anche per come dire alleggerire quelle che a volte sono delle dinamiche molto più complesse perché vedete quando si commettono magari a volte quelli che noi chiamiamo errori no degli sbagli ma si commettono diciamo in nome di un amore questi questi errori questi sbagli possono essere compresi possono essere compresi da un amore molto più grande che è proprio quella della comprensione che è quello della misericordia che è quello del perdonarsi del perdonare perdono e questo diciamo proviene anche da un insegnamento cristiano anche cattolico ma anche voglio dire è proprio l'etimologia della parola perdono significa super dono e allora la domanda in chiave laica al di là dei dogmatismi che raggiungono ognuno di noi non ognuno di noi ha le proprie vite ognuno di noi ha i propri rapporti c'è chi è sposato chi è divorziato chi è separato chi è amante chi è un amante due amanti a me non interessa questo però quello che credo sia importante che cosa poi deve essere perdonato deve essere perdonato la persona che ha amato autenticamente deve essere perdonato quell'amore che non ha più ritrovato nell'albeo familiare deve essere perdonato la mancanza che magari ha potuto vivere in quel momento e che poi è stata ristorata da un amore che ha vissuto per un minuto un pomeriggio che magari vivrà per sempre o è proprio quel secondo terzo amore l'amore reale che invece lo accompagnerà o la accompagnerà per tutto il corso della nostra vita chi ce lo dice questo il tempo ce lo dice l'esperienza e ce lo dice soprattutto il non bigottismo che purtroppo a volte diciamo ci può restringere il campo visivo cognitivo e comprensivo io credo così come lo credeva il personaggio di rose nel film l'amore a due facce di barbara estresen che l'amore finché dura è un qualcosa di è magico è qualcosa di straordinario che rende la vita di ognuno di noi davvero un disegno un disegno di un altro pittore e quindi di questo sono convinto che poi ci siano delle situazioni in cui un amore possa inglobare un altro amore o un amore si possa mettere in antitesi ad un altro amore beh questo diciamo fa parte della complessità dell'essere umano e sarà poi la consapevolezza e la maturità degli esseri umani coinvolti in questa storia in questo come dire in quest'opera d'arte in questo coinvolgimento esistenziale che dovranno poi sapessela gestire però voglio anche dirvi una cosa io nel mio lavoro di avvocato ho incontrato molte coppie molte persone anche con figli che a volte diciamo portano le loro storie le loro esperienze in tribunale e vi posso dire da operatore del diritto che le cause i processi più incrisciosi che possono essere portati in tribunale sono quelli che riguardano le separazioni fra coniugi e quelle di divisione ereditaria lì non ci si riconosce più né come fratello né come non si riconosce più nulla subentra solo la rivista e l'odio e nelle separazioni invece tra coniugi purtroppo per delusione per rabbia per amarezza ci si consuma ci sono uomini e donne che si consumano in quella separazione io credo che un essere spirituale altrimenti è inutile tutto quello che ci diciamo durante le nostre dirette io vi sto dando degli elementi che devono essere spunto per una sedimentazione ulteriore per fare un passaggio spirituale in più rispetto a quello che noi siamo abituati a fare io credo che se mi reputo un essere spirituale un essere che riconosce dentro di sé la scintilla divina devo anche essere conscio che questa spiritualità deve comportarmi un equilibrio e che questo equilibrio deve essere trasmesso soprattutto nella gestione di un eventuale amore che può terminare e può terminare in un'aula di tribunale ma soprattutto nella gestione di una dell'amore filiale perché i figli grandi o piccoli che siano e che si trovano a vivere una situazione di separazione dei propri genitori non hanno alcuna colpa non hanno alcuna responsabilità di questa divisione sentimentale perché che che si dica due coniugi possono anche smettere di amarsi possono anche giungere a non volersi bene ma saranno sempre genitori quindi una forma di quell'amore universale che è l'amore filiale resterà nei loro cuori serbi sempre e siccome io so che le persone quando riescono poi a eliminare quella rabbia quel dolore quella sofferenza della divisione della separazione dovuta a tante cause perché non è soltanto l'adulterio perché a volte molti matrimoni finiscono molti rapporti terminano proprio perché è arrivato il loro momento di scadenza e non c'entrano nemmeno le altre persone io a volte ai miei clienti auguro di innamorarsi dopo che la loro situazione matrimoniale sia terminata affinché arrivino a quella divisione a quella separazione che giunge inevitabilmente nelle aule dei tribunali per avere elementali avvengale in modo più autentico io non mi separo da te perché sono innamorato di io mi separo da te perché non ho più amore così come lo intendevamo prima del nostro matrimonio durante o durante gli anni del nostro matrimonio che purtroppo oggi non c'è più ed esistono decine e decine di coppie il femminismo la legge sul divorzio la legge sul la legge sul sull'aborto sono tutte chiavi che non comportano certamente il voler dire tu devi divorziare tu devi abortire tu ti devi separare ma sono strumenti di cui la civiltà ha bisogno per poter essere garantita nei propri diritti una delle massimi esponenti una grande autrice una grande giornalista che è venuta a mancare alcuni anni fa che tutti noi conosciamo ed è oriana fallaci ha scritto dei libri straordinari tra questi scrive un libro e lei era abituata ai grandi reportage alle grandi tematiche scrive un libro proprio sull'aborto che è quello di lettera un bambino mai nato ed è un dialogo intimistico tra questa madre e questo figlio che non nascerà mai e allora anche questo va visto in un'ottica spirituale perché se noi ci limitiamo a guardare al di al di dentro del nostro caso e non al di là del nostro caso purtroppo siamo limitati e limitanti anche come esempi per i nostri figli noi siamo chiamati ad essere esempi per noi stessi e soltanto applicando una legge di amore fecondo una legge di amore spirituale che l'amore non comporta mai dolore o nocumento all'altra persona se è un amore autentico ma non si possono colpevolizzare le persone perché smettono di amare le altre persone o perché amano altre persone o perché amano se stessi e non hanno più voglia di vivere un amore che non è più un amore ma è un rapporto monco tutto questo non ha senso basta una vita a volte per comprendere queste cose noi abbiamo parlato altre volte dei dei cicli di incarnazione ne abbiamo parlato anche mercoledì scorso quando vi ho portato a vostra diciamo conoscenza il personaggio di besera de menesis che ha avuto diverse incarnazioni quindi abbiamo parlato delle varie missioni spirituali dei vari passaggi che ci sono stati ma noi conosciamo realmente tangibilmente noi conosciamo solo questa vita e allora noi dobbiamo rendere questa vita un disegno e abbiamo un tempo limitato per poterlo fare per rendere questo maggio questo disegno il più bello possibile e lo possiamo fare solo attraverso l'ornamento di fiori emozionali di fiori spirituali di vibrazioni autentiche che possano possono renderlo davvero un'opera d'autore così come d'autore è quella poesia di Bruno Lanza che io vi ho recitato indegnamente probabilmente perché ci vorrebbe un interprete al mio posto io non sono un attore ma è così che le cose in questo mondo se vogliamo farlo cambiare se vogliamo approdare a quello che gli spiritisti chiamano il mondo della rigenerazione è solo attraverso una parola d'amore che mettendo in circolo l'amore che noi possiamo riuscire a regolamentare nel miglior modo possibile le nostre vite purtroppo queste sensazioni purtroppo il nostro modo a volte è limitato di vedere diciamo le situazioni che si vengono a creare nessuno vuole un marito adultero nessuno vuole una moglie adultera ma è chiaro voglio dire ma può accadere accade tutti i giorni e accade per le più svariate motivazioni e allora che cosa facciamo neghiamo a noi stessi il diritto di vivere o invece ci diamo un'opportunità tutti possono essere attori o spettatori di un adulterio io posso subire un adulterio così come posso essere una parte attiva dell'adulterio basta a me poi capire e comprendere cosa posso evincere da quell'esperienza dal lato di attore e dal lato di spettatore questa è una cosa fondamentale e nel rapporto di coppia una delle regole auree che io ho appreso durante questi anni è quello di non darsi mai per scontati e questa regola si inanella ad un'altra regola aurea che è una regola universale ed è il libero arbitrio prima di lasciarci io vi invito a vedere questi due tre film che vi ho detto l'amore a due facce il principe delle maree e i ponti di Madison County che tra i tre è quello che dà un senso maggiore all'amore romantico adultero all'amore matrimoniale e all'amore filiale e all'amore per se stessi questo film i ponti di Madison County che poi è tratto da un libro molto famoso ma vi posso dire che i due attori che lo interpretano che sono Clint Eastwood e Meryl Streep sono straordinari lei a un certo punto dice se io non avessi vissuto quell'amore durato quattro giorni nell'ohaio io non avrei avuto la forza di vivere il resto della mia vita insieme al mio marito e ai miei figli lei rinuncia a quell'amore improvviso lei rinuncia alla passione al desiderio ma non rinuncia al ricordo di quell'amore non rinuncia all'autenticità di quell'amore e le renderà quell'amore linfa vitale per tutto il prosieguo della sua vita noi siamo esseri spirituali e se non effondiamo amore alle persone che ci stiamo a fare qua non abbiamo senso abbiamo un tempo questo tempo che non conosciamo rendiamo ogni minuto pronto all'amore vivido d'amore e soprattutto così come vi ho detto prima nel modo più indegno che io possa essere in questo momento ma rendiamo rendiamoci esempi per noi stessi siamo esempio d'amore per noi stessi perché solo così potremmo essere esempio d'amore per gli altri e esempio d'amore per i nostri stessi figli se siamo genitori con questa frase io credo di aver raggiunto il mio tempo limite se magari Mirella mi dice che ore sono perché purtroppo non ho l'orologio con me poi abbiamo parlato d'amore e sono andato in un'altra dimensione spirituale che è comunque legato 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 alla tematica che vi ho diciamo discretamente rappresentato spero di avervi fatto compagnia nel miglior modo possibile mi vorrà perdonare Gaetano se non sono stato all'altezza di questo convegno ma spero di aver dato a voi che 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 ci seguite che mi seguite da tanto tempo degli strumenti e soprattutto degli elementi per poter sedimentare delle nuove concezioni che ci possono aiutare ricordatevi che siete degli esseri spirituali e come tali avete una missione spirituale in questo mondo siete voi che la dovete scoprire grazie di tutto ci vediamo mese prossimo per la nostra diretta e passo la parola alla diretta successiva grazie sempre